Buongiorno raga! Buongiorno raga! Allora, devo dire che la mattinata è stata molto produttiva. Stamattina io e mia sorella ci siamo svegliate per le 8, siamo uscite, siamo andate a registrare dei video, fare delle foto e Bianca è venuta benissimo in tutte le foto perché fondamentalmente è stupenda, quindi se non la seguite ancora mi raccomando andatela a seguire che adesso inizierà a postare un sacco di fotine carine. Comunque io mi sono preparata perché oggi andrò a mangiare in un posto bellissimo a Paraggi che è una località della Liguria che si trova tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Se non ci siete mai stati raga andateci perché è veramente stupenda, molto molto piccola ma un gioiellino. Questo è il make-up, super semplice, adesso vi mostro l'outfit di cui sono molto orgogliosa. Eccolo qui raga, fatemi sapere che cosa ne pensate. Comunque adesso vi lascio le reference, il blazer e il pantaloncino sono un completo di Zara, l'ho preso qualche mese fa. Poi ho messo un corpetto, questo è di Sandwood, le new balance ed infine questa borsetta che mi è stata inviata da One & Luxury, è veramente qualcosa di meraviglioso. Tra l'altro mi fa impazzire la forma geometrica che la rende stra particolare. I'm ready! Grazie! Grazie! Grazie!